Una serata intensa qui alla sede della Montebella, abbiamo parlato dei problemi dei quartieri cittadella, tra questi il problema che è anche un'opportunità dello stadio. Il comune è chiaro e notorio che oggi non è in nessuna condizione di pensare a costruire uno stadio nuovo fuori città. Per cui il problema, come già avevo detto durante la mia esperienza da assessore più di un anno fa, il problema secondo me è sicuramente tra quelli non in agenda della prossima giunta. Diverso è un discorso se il Parma volesse lavorare su un nuovo modello di stadio, magari in area anche del comune. Penso che sicuramente si potrebbe ragionare insieme con Parma e con la città di Parma e i suoi cittadini su questa opportunità. Ma al momento, ripeto, il comune non è nelle condizioni di pensare anche solo minimamente a un nuovo stadio. In questa logica aspettiamo le decisioni del Parma, le determinazioni e le volontà del Parma, invece bisogna lavorare sulla viabilità, sulla sicurezza durante le partite intorno allo stadio. facilitare il cammino e il percorso dei residenti e viceversa evitare che non accettassi i blocchi perché magari gli orari non sono idonei.